Eccola la pronuncia della Corte di Appello di Trento che ha riconosciuto a una coppia gay italiana la doppia paternità di due gemelli nati in Canada attraverso la pratica dell'utero in affitto. Uno solo è il padre biologico che ha avuto i bambini attraverso la partecipazione di due donne. Una ha donato gli ovociti che, fecondati, sono stati impiantati in un'altra che ha portato avanti la gravidanza. Fatti che risalgono al 2009 e ora la pronuncia dei giudici che hanno interpretato la legislazione italiana aprendo la possibilità della stepchild adoption omosessuale. Ciò che si è voluto scongiurare con la legge sulle unioni civili sta rientrando dalla finestra con le sentenze dei giudici. Ritenere padre un signore che è convivente del padre biologico. In Italia, questo peraltro, la nostra legge sull'adozione non lo consente neanche alle persone di sesso diverso. I giudici hanno pure affrontato i divieti alla cosiddetta gestazione per altri previsti dalla legge 40, ma hanno trattato la vicenda in questione alla stregua di un caso limite cui concedere la fecondazione eterologa. Una scelta che chiama in causa i principi del nostro ordinamento e la necessità di delineare meglio le normative e le ricadute concrete, rispettando la dignità e i diritti di tutte le parti in causa. La donna madre viene completamente annullata e soprattutto evitare la commercializzazione a livelli spudorati e che infliggono non solo la negazione della madre al bambino, ma anche una mercificazione del corpo delle donne che ci riporta tempi che pensavamo superati. Quindi non è un fatto di civiltà, ma è un grande ritorno indietro.